Troppe troppe cose da dire in questo video quindi prendetevi appunti perché andremo a sviscerare tutto quello che è il mio pensiero momentaneo e tutte le cose che sto osservando nel mercato delle criptovalute ma non solo anche nel mercato azionario andremo a collegare i punti e a capire perché dobbiamo fare mente locale in questo momento. Allora innanzitutto oggi ci saranno i CPI e i mercati già stanno iniziando a scontare questa cosa con un po' di preoccupazione quindi hanno iniziato a fare del take profit sui mercati azionari pochissimo sulle criptovalute lievemente la dominanza è ancora salita di bitcoin il che ha portato molte delle coins a scendere da però una cosa è interessante tra poco andremo a vedere è il trend e l'ema sulla bitcoin dominance che dovete seguire come guida per capire che cosa sta succedendo e quando effettivamente potrete spostare. o no indipendentemente da quello che volete fare su alcune al coins altra cosa importante piritar line sta fallendo il che mi rende veramente felice spero che lo faccia malissimo dopo tutti i voli che mi ha fatto perdere ma questo è un altro discorso andiamo a vedere adesso che cosa sta combinando bitcoin bitcoin è arrivato a 90 mila dollari e sappiamo tutti perché siamo arrivati a questo punto dopo la vittoria di donald trump che abbiamo visto dalle elezioni presidenziali statunitensi bitcoin ha toccato nuovi massimi storici ha rotto la resistenza di 74 mila dollari si è portato fino a 90 mila dollari con un extra euforia un extra fomo in molti ora si aspettano 100 mila dollari che potrebbero arrivare certo perché siamo in blue sky breakout quando sei in blue sky breakout non ci sono resistenze sopra le tue teste quando non ci sono resistenze sopra le tue teste praticamente è difficile anche trovare shorter e quindi è molto facile andare a tagliare come un coltello taglia il burro a rialzo e portarti molto molto più in zone estreme del mercato infatti si chiama blue sky breakout non ci sono limiti su questo tipo di grafico potremmo tranquillamente sul grafico di bitcoin che era una bull flag mensile andare anche a 100 120 mila dollari tranquillamente se andiamo a vedere il pattern generale come è messo in questo momento quindi su questa su questi 100 mila dollari volendo non ci sono neanche i dubbi che potremmo raggiungerli tranquillamente ok i 100 mila dollari sul lungo termine però c'è anche chi punta adesso 200 c'è chi punta 500 c'è chi punta un milione ok quindi tutto questo questa confidenza è portata appunto da questo aspettativa di una di una riserva strategica in bitcoin da parte di alcuni paesi soprattutto degli stati uniti un contesto macroeconomico favorevole che probabilmente per molti durerà per sempre poi ci sono anche opinioni un po più scettiche come quella del tipo è però gli hedge fund e i gestori patrimoniali non stanno effettivamente facendo fomo in questo momento ok stanno facendo fomo ore e retails che sono entrati adesso dopo che è scattato l'all time high come succede spesso come succede sempre e se non siete nuove bitcoin e non siete neanche nuove ai cicli passati vi ricorderete tutto quello che dopo un l'all time high ha sempre seguito ok un prezzo in discesa voi direte ma questa volta è diverso ok questa volta è diverso è la frase più sbagliata che potete usare negli investimenti perché generalmente non è mai diverso nel senso che è diverso leggermente però generalmente la pagate la pagate se fate fomo in un momento sbagliato adesso andremo attraverso tutto quello che intendo come fomo andremo attraverso quello che intendo come cripto ex è ridicolo in questo momento è l'ultimo posto dove volete passare le vostre giornate è ex in questi giorni ragazzi questi giorni ex è davvero un peccato un peccato divino starci sopra perché vi farà fare tanta fomo vi farà comprare cose stupide vi farà andare a ripescare nella vostra mente andrà a farvi riaprire quei cassetti che non volete riaprire e poi vi troverete in una situazione molto molto delicata quando il mercato tornerà in bear market quando lo farà magari non lo farà mai però quando lo farà che ovviamente adesso c'è una domanda di option call per i 100.000 dollari molto alta quindi potremmo raggiungere entro il 2025 anche entro Natale c'è tutto bullsember e tutte queste cose qui potremmo vedere ovviamente dei risultati ancora fenomenali da parte delle cripto valute però attenzione attenzione perché le cripto valute non sono le uniche che stanno vedendo questa fomo se vi ricordate io vi dissi tempo fa che Russell 2000 aggiustato per i dividendi se andava in oltre mai avremmo visto una continuazione anche sulle cripto valute quindi non è stata solo una cosa delle cripto valute a sé questo è stato un movimento congiunto di una serie di fattori tra cui Elon Musk anche guardate Tesla cosa ha fatto che Tesla è arrivato a 360 in una fomo pazzesca tra l'altro l'ho shortato qui e questi sono gli short che ho su coin e su Tesla in questo momento perché appunto c'è stata una forte euforia un forte impulso rialzista su Tesla c'è stato sulle small cap su Russell mentre le S&P 500 e il Nasdaq sono andati un po' sideways hanno lasciato spazio alle small cap gli asset risk on di cui le cripto valute fanno parte sono esplosi come ritardatari dopo la vittoria di Donald Trump quindi non è una cosa solamente specifica su Bitcoin perché adesso stanno saltando fuori su CryptoEx appunto molte cose molte visioni che io trovo veramente interessanti perché adesso si inizia a paragonare all'oro si inizia a andare a vedere il market cap dell'oro andremo a raggiungere il market cap dell'oro stiamo superando sardi a Ramco diventeremo riserva globale tutti i governi lo adotteranno eccetera eccetera ma tutte queste cose le sapevamo già tutte queste cose erano probabilmente inevitabili nel tempo le sapevamo già anche quando Bitcoin era a 50.000 dollari quando Bitcoin era a 40.000 dollari quando era a 30.000 dollari tutte queste cose le sapevamo già la mia domanda è dove erano tutti quanti nel dump di FTX dove erano tutti quanti qui in questa fase qui dove erano tutti quanti quando PacMine indicatore sul settimanale dava le entrate e l'everage era 25.951 qui non c'era nessuno qui c'eravamo solo noi i più i più veterani holdarci le posizioni sott'acqua vicino al 200 ema settimanale a dire compriamo il dip quindi buy the fear ok e adesso io pochi giorni fa su X se non mi seguite comunque io qua ho condiviso anche tutti i miei short su Bing X ho proprio aperto il mio account Bing X e sono andato visto che in tanti dicono e chiedono se sono stato liquidato andiamo a vedere su sono andato ad aprire tutto a farvi vedere che non ci sono state liquidazioni negli ultimi 90 giorni a farvi vedere tutto il report dei trading profit che ho fatto e praticamente sono 13.700 dollari negli ultimi 30 giorni cumulativo di profit sui futures ok quindi qualcuno ha commentato come vanno gli short hanno liquidato no no sapete perché no perché non ragiono dentro la scatola di seguire le masse io faccio il mio piano che io seguo i miei piani che porto avanti da tanto tempo non è che aspetto l'ultai mai per dichiararmi che sono qualcosa di diverso ok come ho visto tanti fare io ho sempre ragionato così seguite il mio storico di X e quindi sto facendo di short l'ho portato anche a pescare a questo speech del cosa sto facendo esattamente del perché lo sto facendo come lo sto gestrando come voglio far crescere questo account Bing X qual è il mio obiettivo quindi seguite lo storico e vedrete tutto quanto non voglio dimostrarvi niente non vi sto neanche dicendo di seguire niente vi sto solo portando quello che sono io perché comunque mi piace anche condividere le azioni e il mio movimento 10 novembre ho scritto oltre vista long e qualche short ho chiuso tutto il resto prendo una pausa meditativa vi auguro una corsa a fine 100k e oltre e un sacco di profitti ve li meditate se vi ricordate ok questo post ha ricevuto un sacco ovviamente giustamente di critiche ma perché chiudi adesso ma hai appena iniziato il party ma che diavolo fai ma perché non stai long andremo a 350 dollari devi ancora capire cosa sta arrivando non lo puoi neanche vedere non lo puoi neanche capire vabbè tutte queste cose qui che ci sta ragazzi io non ti sto dicendo che bitcoin non può andare a 150.000 dollari però ragazzi io ho dentro da 30.000 dollari avevo una media ora perché avevo scaricato poi delle posizioni quando eravamo andati prima di marzo quindi avevo portato a 40 bar 42.000 dollari perché avevo scaricato delle posizioni intorno a ho iniziato a scaricarle in tutta questa salita qua e ho scritto una cosa interessante secondo me a ieri in cui ho scritto non riuscirai a capire quale sarà il top di questo bull market così come non sei riuscito a capire qual era il bottom del bear market precedente e nessuno dovrebbe farsi questa aspettativa quindi l'approccio migliore qual è? per me è fare scale in e scale out quindi fare del lock in profit è importante altrimenti rimangono solo numeri del cyberspazio ora tutti su X ti diranno qualsiasi cosa se voi aprite CryptoX in questo momento è una fornace di fomo persone che mi hanno scritto persone che sono usciti proprio dai cimiteri e mi hanno scritto ma è il momento di entrare adesso devo andare a riprescarmi giustamente le land di Sandbox devo andare a comprarmi non lo so a momenti Peercoin ragazzi torna a galla talmente siamo in fomo in questo momento attenzione attenzione al gioco che stanno facendo attenzione ad Ada Cardano ragazzi Ada Cardano adesso con questa storia del governo C'è il Soskisson ve la metterà in quel posto ancora una volta capite? perché stanno sfruttando la fomo attenzione alle celebrità attenzione ad Andrew Tate attenzione a Iggy a Zelaya attenzione a tutti quelli che stanno urlando al Super Giga Cosmo perché alla fine della fiera i soldi sono i vostri alla fine della fiera se voi non avete un piano e ascoltate sempre cosa vi dicono gli altri ci rimettete ok? ci rimettete sempre quindi fare lock in profit non è un peccato fregatevi di cosa vi dicono su X fregatevi di cosa dice la gente fare dei lock in profit qui e iniziare a scalare fuori delle posizioni se siete entrati a 30.000 dollari ragazzi siete in profitto siete in profitto di un sacco di soldi perché io continuerò a ribadire comprate nella paura vendete nell'euforia questa è una legge ok? che vi porterà sempre ad essere in vantaggio sui mercati comprate nella paura vendete nell'euforia non fate la cavolata di comprare nell'euforia se non l'avete fatto nella paura perché andate a prendere un treno vi andate ad aggrappare a un treno pieno di indiani in corsa fortissimo e rimarrete sicuramente feriti perché vi butteranno giù da questo treno ve lo posso garantire quindi sto dicendo che il piccolo non può andare a 300.000 dollari non me ne frega di cosa dice a me Michael Saylor di cosa dice Mark Kaiser questi sono ah no innanzitutto i miliardi sono dentro da un sacco di tempo per loro non c'è tempo per loro non vale non vale niente vale niente l'unica cosa che interessa loro adesso è andare su X e far parlare di loro perché questo è l'obiettivo che hanno a più di 60 anni non hanno sicuramente obiettivi diversi da questo ok quindi diventare dei superheroes in questo in questa cosa qua per voi è diverso però perché se ora volete cambiare come ho scritto anche su X la vostra economia e iniziare ad usare bitcoin come base currency per i vostri acquisti per fare tutto quanto beh e volete non vendere più non fare più take profit ma holdare perché bitcoin dovete holdarlo perché bitcoin è il nuovo fiat e quant'altro sono d'accordissimo con voi il problema è quanto guadagnate qua fuori perché se il vostro obiettivo è buttarci dentro un DCA di 200 euro al mese e non fare take profit e pensare di accumulare ricchezza buttandoci dentro 200 euro al mese a un bitcoin a 90 mila dollari vi sbagliate di grosso se invece iniziate a fare un po' di lock in profit approfittate della volatilità di bitcoin quindi quando scenderà sul prossimo year low che questo è anche il mio piano ci sarà un crash di mercato prima o poi recupererete le posizioni che avete preso profitto non vi sto dicendo di uscire al 100% da bitcoin potete anche rimanere con una posizione del 50% del 40% quando andremo a fare un year low giornaliero anche se lo andrà a fare più in alto ok voi seguite il trend comunque lo ripescherete ripescherete quello che avete venduto oppure se non riuscirete a ripescare quello che avete venduto perché è salito troppo siamo andati a 150 mila dollari beh fa niente lo ricomperete sull'year low ma sapete che state andando col trend sapete che comunque è il trend molto forte ok quindi dovete giostrarvi molto bene le vostre posizioni e ve lo continuo a ripetere è importantissimo che voi fate dei lock in profit a mio parere non è un peccato ok mi raccomando ragazzi date un occhio assolutamente a mind di certo teo perché adesso abbiamo ok fermatevi un attimo abbiamo newsletter gratuita Degener Report quindi sul Degener Report riceverete avrete l'accesso a tutti gli X-Files e vi dico sui X-Files che sto facendo sono molto interessanti perché vi dicono ad esempio le prossime meme che potrebbero esplodere quelle che potrebbero essere lanciate sull'exchange gli agenti AI come stanno andando perché potrebbero essere un trend importante come funzionano i prossimi 8 principali trend che vale la pena prestare attenzione sulla DeFi per quando ci sarà la correzione volete rientrare la DSAI progetti di opportunità i rapporti sulle mascotte quindi tutte queste cose qua vi arrivano tutti i giorni troverete 3-4 il giorno se vi abbonate al Degener Report e in più ogni 3 giorni vi arriva il setup di trading su alcune altcoins che non state lì a vedere altra cosa PacMine Toolbox se volete unirvi qua troverete tutti i trade la maggioranza che vengono fatti su come si dice su Exo ho creato un account solo per quello dove vi metterò tutto quanto e le medie i takes and profit come funziona c'è il video tutorial come installarlo su TradingView e guardate ad esempio su Bitcoin se usavate appunto il PacMine 57.852 era la media due entrate qui e i takes and profit ancora non ce li ha dati però ad esempio l'SMP500 vedete vi ha dato un takes and profit qui la media era 5233 lo potete usare anche sui altcoins su qualsiasi altra cosa guardate Solana ad esempio la media ve la dava 132 e poi vi ho fatto fare alcuni takes and profit quindi assolutamente potete installare tutti gli alert che vi arrivano direttamente qui io l'ho messo i 400 e avrete anche ad esempio adesso ci ha dato alcuni segnali Shiba Inu takes and profit vedete Vista Pack e tante altre cose quindi vi consiglio di darci un occhio perché vi potrà aiutare l'abbonamento semestral Bitcoin Dominance attenzione a Bitcoin Dominance prima di parlare di super alt season giga alt season che non vedremo mai questa è l'ultimate alt season attenzione perché la 26 EMA sul settimanale ci dice ci fa la guida del trend a me piace molto quando io osservo i grafici cerco di trovare quel punto in comune che mi dice ok su questo grafico se perdiamo quel livello cambia effettivamente la storia sul grafico qual è guardando la Bitcoin Dominance quel livello che se perdiamo cambia la storia sul grafico beh a questo punto è la 26 EMA e quando perderemo la 26 EMA che ha sempre fatto da supporto ormai praticamente dal 2022 sulla Bitcoin Dominance che sta comunque salendo ancora quando perderemo la 26 EMA a quel punto cambierà il trend e a quel punto probabilmente inizieremo una forte alt season ok al momento no perché io sto continuando a shortare alcune delle altcoins e questa cosa molte persone non la capiscono ah c'è una forte diluzione nel mercato delle altcoins ogni giorno vengono buttate fuori nuove narrative questo cosa permette permette alle vecchie altcoins che pompavano la settimana prima di spostare profitti sulle nuove altcoins e andare a drenare quelle precedenti ok sono pattern molto comuni che vedrete continuamente e c'è velocità c'è è molto gravitazionale questa cosa perché salgono dalle scale scendono dal balcone e quindi vi dà la possibilità di fare in e out molto velocemente e sfruttare l'andamento di quelle coins che non siete riusciti a prendere long perché è molto difficile andare a capire quali pomperanno long ma sapete che una volta pompate 90% delle volte scenderanno nella stessa direzione quindi riuscite a trovarne molti di più in short che long ovviamente dovete fare i conti non dovete usare la leva dovete stare attenti alle liquidazioni gestire il capitale in una maniera intelligente non è non è semplice dovete essere bravi a farlo però sicuramente è qualcosa da tenere in considerazione ok quindi è per questo che lo sto facendo ed è per questo che continuerò a farlo finché funziona finché ho la possibilità di farlo quando vedrò che non funzionerà più cambierò strategia ok questo è adattativo nel senso che i mercati dovete adattarvi molto a quello che fate sui mercati quindi al momento si è dimostrato appunto che ancora una volta shortare real coins è stato intelligente si è fatto sul top perché perché hanno perso tutte i double digit ok perché la dominanza salita in quanto bitcoin si sta correggendo ok adesso probabilmente bitcoin andrà un po' sideways e nel tempo della settimana se i mercati azionari rimangono forti e tutto rimane ancora forte recupereranno terreno quindi sarà una possibilità anche di fare alcuni buy the dip ora probabilmente se andate su bitcoin è andata a scalare su vari time frame noterete che le prime aresai sull'orario verranno acquistate sono state acquistate qui e quindi il bounce è stato fatto sulla primo tocco della 26 dell'orario poi adesso andranno a cercare sicuramente quella del 4 ore quando verrà colpito quella del 4 ore andrà a cercare quello del giornaliero e così via e poi eventualmente magari cambieremo il trend se verrà cambiato questo può essere tranquillamente una bull flag è al momento un inside bar quindi c'è tutta la possibilità di continuazione di questo mondo perché appunto siamo in blue sky break out quindi non sto dicendo che bitcoin da qua deve scendere non vi sto dicendo nulla di tutto ciò così come non vi sto dicendo che l'S&P deve scendere da qua bla 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 assolutamente no quello che vi sto dicendo però importante è fatevi lock in profit così sapete sempre dove vi trovate è molto importante ok questo era il senso del mio video di oggi che volevo fare per voi io non ho altro raggiungere il video di oggi ci tenevo veramente a farvi capire queste 4 cose perché adesso è in quel momento secondo me che non bisogna essere troppo scientifici nell'analizzare tutte le cose ok quello che doveva venire è venuto ok non ci interessa adesso discutere di come faranno la riserva strategica di cosa farà Donald Trump o di che cosa farà Michael Saylor con Michael Strategy non ci è mai interessata questa cosa non interessa la price action non interessa capire in questo momento il qui e ora che cosa cosa dobbiamo fare in questo momento con i nostri profit ok come dobbiamo comportarci con i nostri profitti sui altcoin su bitcoin come muoverci e un'altra cosa che ci interessa è spegnere non ascoltate la FOMO su CryptoEx ragazzi perché vi farete molto 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 male ok quindi questo era tutto quello che avevo da comunicare oggi commentate sotto vi aspetto e ci vediamo al prossimo appuntamento ciao a tutti grazie